Il titolo Cantologi è una crasi di canzone e antologi, o forse di caparezza e antologi. Si tratta perciò di un'antologia dei suoi brani. Vengono dunque citati, quasi sempre in ordine cronologico, i titoli di molti dei suoi pezzi storici, spesso capovolgendoli in cerca di un rinnovamento. Le canzoni dei suoi album precedenti, come dice il ritornello in lingua inglese, si sono sparpagliate in giro, cercando di arrivare da qualche parte. Inoltre, essendo il ritornello tratto dal brano Get Away dei Drugs, c'è riferimento all'album di provenienza di tale canzone, antologi per l'appunto. Caparezza fa riferimento ai tre bambini del Miracolo di Fatima, a cui, secondo la tradizione cattolica, la Vergine Maria sarebbe apparsa più volte nella seconda metà del 1917. Con Band Trip si intende invece un'esperienza negativa dovuta all'assunzione di alcune sostanze stupefacenti, come ad esempio LSD o psilocibina. Caparezza, quindi, classifica come semplici allucinazioni le apparizioni misteriose di Fatima, contemporaneamente descrivendo il proprio stato mentale come allucinato e quasi psicotico. Caparezza cita e capovolge, tramite un iperbole, la nota frase pronunciata dal replicante Roy Betty, interpretato dall'attore olandese Rutger Hauer, nel celebre monologo finale del film Blade Runner. Le vivide immagini che si generano nella testa dell'artista si concretizzano nelle canzoni che scrive, che appaiono addirittura in tre dimensioni, come se i testi fossero scritti su libri pop-up. Inoltre, si dà il caso che nell'esecuzione live di Kinatown, in occasione del tour di Prisoner 709, Caparezza sfogliasse proprio un grande libro pop-up. La frase, però, può anche essere letta come 3D, cioè tre giorni ogni pagina, diventando quindi un riferimento autoironico alla frequente ricchezza di dettagli nei testi dell'artista. In questa barra, Caparezza gioca con il detto popolare vedere una situazione rosea, che indica il riuscire a vedere la positività in qualcosa, e il colore della Cadillac modello Fleetwood 60 appartenuta al celebre cantante Elvis Presley, sottolineando invece come la sua visuale non sia per nulla rosea. Al contrario, la visuale di Caparezza è spesso molto più cupa e, per certi versi, in discordanza con quella di molti altri, come lo stesso artista pugliese spiega più avanti nell'album, lungo il brano A Zera Pace. Caparezza fa riferimento alla canzone La fitta sassaiola dell'ingiuria, contenuta nell'album del 2000. Il brano, il cui titolo nasce da un verso di Confessioni di un malandrino di Angelo Branduardi, da cui sono anche campionati base e ritornello, sottolinea come Caparezza si faccia forte degli insulti che riceve. Riferimento al brano Tutto ciò che c'è, contenuto nell'album del 2000, in cui affermava Michael Jackson dice Capa sei un genio. Qui la frase viene ironicamente rovesciata, forse per sottolineare come l'opinione altrui, oltre che la propria, possa essere cambiata. Riferimento alla canzone Cammina solo, contenuta nell'album del 2000. Caparezza giunge a solo anche Pazzo, per infine decidere di smettere di camminare e fermarsi, rimettendo in discussione il proprio passato. Un esame di coscienza che, esplorando diversi temi, si estende per tutta la durata di Exuvia. Col termine in coma, probabilmente fa riferimento al concetto di morte apparente dell'artista nel suo album Verità Supposte, resuscitato concettualmente nell'album seguente Abemus Capa. In queste due barre, Caparezza gioca con il nome del quarto re di Roma, Ancomarzio, e con la frase dialettale romana Mancomarzo, ovvero Nemmeno Mialzo, lasciando intendere di non avere alcun interesse nel partecipare in conflitti di qualsiasi genere, che essi siano scontri fisici o semplici polemiche, o perlomeno di non opporre resistenza al proprio conflitto interiore, esaminato anche più avanti nel corso di Exuvia, in brani come Eterno Paradosso e A Zera Pace. Il riferimento è al brano Il Conflitto, contenuto nell'album del 2000, in cui l'artista pugliese dichiara il proprio antimilitarismo, come fatto in seguito anche in Follie Preferenziali e Comunque Dada. Riferimento a Torna Catalessi, brano contenuto nell'album del 2006, Abemus Capa. Il titolo di quel brano, infatti, rivisitava in chiave ironica il film del 1943, Torna a Casa Lessi, che si soffermava sul profondo legame affettivo tra la protagonista, un pastore scozzese, e il suo padrone. Nel contesto di cantologi, però, Caparezza afferma di sentire ormai lontana la calma a cui agognava nel brano citato. Riferimento al brano Il Secondo Secondo Me, contenuto nell'album Verità Supposte, nel quale Caparezza dichiarava, secondo uno stereotipo consolidato nell'immaginario collettivo, che il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista. Qui invece afferma ironicamente che Exuvia, il suo ottavo album, gli ha richiesto molta più fatica e impegno rispetto al secondo. Caparezza fa riferimento al suo singolo Fuori dal tunnel, estratto da verità supposte, il cui significato all'epoca venne frainteso. Così la canzone diventò un successo nazionale, ma anche, suo malgrado, un simbolo delle stesse modalità di divertimento di cui rappresentava una critica. In questo caso, come già fatto in altri contesti, il rapper sottolinea come quanti lo conoscono e lo apprezzino solo per quella canzone, senza aver approfondito il suo vasto repertorio. In modo ironico, potrebbe anche paragonare il tunnel ad una tomba da scavare e in cui rifugiarsi per il fastidio. Un'immagine ripresa anche nella seconda strofa e, in precedenza, in brani come Prisoner 709. Riferimento a Vengo dalla Luna, brano contenuto nell'album Verità Supposte. Anche se il brano originale era in realtà una forte presa di posizione contro i pregiudizi e il razzismo, in questo caso Caparezza intende che non sente più di potersi elevare tanto in alto. Il suo umore non è più alle stelle, quanto piuttosto sottoterra. Riferimento al brano Inno Verdano, contenuto in Abemus Capa, in cui l'artista muove un'evidente critica al partito conservatore della Lega Nord, cantando l'ipotetico inno della fittizia verdania, parodia della padania. In realtà, nel booklet del CD di Exuvia, questa frase e la seguente, e diventa buio pesto, sono unite, forse in modo da sottolineare la contrapposizione fra due diversi tipi di verde. Il primo indica il simbolo con cui il partito leghista si identifica, mentre il secondo indica il colore, dato principalmente dal basilico, assunto dalla variante genovese del pesto, inteso come condimento. Riferimento a Dalla parte del toro, brano contenuto nel suo terzo album Abemus Capa. A differenza di quello che affermava in tale canzone, qui è lo stesso toro che tifa per il matador, e anzi, gli lecca il culo. Si tratta di un altro capovolgimento di un suo pezzo storico, in linea con gli altri. Lo stesso Caparezza afferma di volergli fare un buco in petto, utilizzando forse un'immagine presente in La mia parte intollerante, brano al quale fa riferimento subito dopo. Possibile riferimento al brano Bonobo Power, contenuto nel suo quarto album Le dimensioni del mio caos. Riferimento alla canzone Non mettere le mani in tasca, contenuta nel suo quarto album Le dimensioni del mio caos. Il brano originale ironizzava sulle critiche ipocrite di azioni ritenute proibite, in quanto poco convenzionali o da tabù. Possibile riferimento al brano Il circo delle pantegane, contenuto nel suo quarto album Le dimensioni del mio caos, in cui affermava come Pluto fiuto il rifiuto che olezza. E in generale denunciava la malsanità di alcuni ambienti. Un'altra possibilità è che il riferimento sia alla canzone La guerra del sale, in collaborazione con Daniele Silvestri, in cui affermava sulla salaria scarsa l'aria, aria marcia che sale. Anche se quest'ultimo brano è stato pubblicato nel 2016, e dunque potrebbe estonare con la carrellata in ordine cronologico offerta dall'artista. Essendo la guglia un elemento architettonico, potrebbe essere un riferimento al brano La grande opera, contenuta nell'album del 2008 Le dimensioni del mio caos. Riferimento al brano Vieni a ballare in Puglia, contenuta nell'album Le dimensioni del mio caos. La canzone è presto diventata uno dei brani più conosciuti e apprezzati del rapper, ma anche uno dei più fraintesi. Infatti, nonostante l'intenzione originale dell'artista pugliese fosse quella di fare luce su diversi problemi della sua regione, soprattutto gli incidenti mortali sul lavoro, ma anche il grave inquinamento causato dalle acciaierie a Taranto e il caporalato, che spesso coinvolge i migranti nei campi di coltivazione, la canzone è stata usata spesso fuori contesto, per esempio in occasione di matrimonio come parte di Cori da stadio. Riferimento ad uno dei personaggi del quarto album di Caparezza, Le dimensioni del mio caos. Ilaria, una giovane hippie proveniente dal 1968, che però nel corso del disco si lascia corrompere dall'indolenza e dal consumismo, e come descritto nel brano Ilaria condizionata, si rivela essere facilmente influenzabile e dai toni arroganti. Riferimento al film di Quentin Tarantino, Kill Bill, la cui protagonista, Beatrix Kiddo, è interpretata proprio da Uma Thurman. La katana sulla nuca è un rimando ad una delle scene più famose del film, ossia il duello sulla neve fra la protagonista e la rivale Oren Ishi, Lucy Liu, e presagisce i versi successivi. Inoltre il giallo è il colore che caratterizza l'album Exuvia, e lo stesso Caparezza è solito indossare capi gialli, come l'impermeabile nel videoclip de La Scelta, o come la tuta indossata durante il tour di Prisoner 709. Riferimento al brano Abbiura di me, contenuto nel suo quarto album Le dimensioni del mio caos. In questo caso Caparezza decide di non abbiurare, e quindi viene condannato a morte, giù la lama. Riferimento alla canzone La ghigliottina, contenuta nel suo quinto album Il sogno eretico. In questa canzone Caparezza nomina spesso Georges Jacques Danton, un politico e rivoluzionario francese, che fu arrestato e ghigliottinato nel 1794 per essersi opposto alle strategie politiche eccessivamente radicali e violente di Maximilien Robespierre. La metafora calcistica potrebbe fare riferimento alla canzone Gli arbitri ti picchiano, in collaborazione con il cantautore Pino Scotto, in cui i violenti arbitri di un'immaginaria partita di calcio fra ricchi e poveri sono in realtà una rappresentazione metaforica dei poliziotti, che spesso arrivano ad abusare dei propri poteri per sedare le rivolte popolari. Tale brano risale al 2010, e perciò può essere inserito nella carrellata cronologica di canzoni tra Le dimensioni del mio caos e Il sogno eretico. Gioco di parole tra il riscaldamento dei calciatori prima di entrare in campo e il fuoco del rogo nel quale morì Giovanna d'Arco, condannata per eresia. Il verso è un riferimento al brano Sono il tuo sogno eretico, contenuto nel quasi omonimo album del 2011. Il riferimento non è del tutto chiaro. Una possibilità è che sia citato il brano Io diventerò qualcuno, contenuto nell'album Le dimensioni del mio caos, nel cui videoclip Kappa sta spesso su un palco. L'argomento della canzone stessa riguarda, per l'appunto, l'arrivismo e l'esibizionismo tipici della società moderna. Un'altra possibilità è che si riferisca al brano Kevin Spacey, contenuto nell'album Il sogno eretico, il cui ritornello consiste appunto in una premiazione. Riferimento al brano Il dito medio di Galileo, contenuto nell'album Il sogno eretico. Per caparezza il peso dell'opinione altrui è tale da sentirsi offeso perfino dallo scienziato, fisico e filosofo Galileo Galilei, notoriamente costretto ad abiurare, cioè a rinnegare pubblicamente i risultati delle sue ricerche sulla teoria eliocentrica, che a sua volta aveva ripreso dall'astronomo polacco Nicola Copernico. Riferimento a Mika Van Gogh, quinto singolo estratto dall'album Museica. Peraltro, fra il 1881 e il 1885, lo stesso pittore olandese aveva realizzato una serie di disegni, definiti studi, ritraenti dei contadini dei Paesi Bassi e del Belgio, fra cui alcuni intenti a girare la terra proprio con delle vanghe. Riferimento al brano Compro Horror, contenuto nel suo sesto album Museica. Caparezza aveva già immaginato il proprio funerale, sempre in chiave ironica, nel brano del 2006 Annunciatemi al pubblico. Riferimento al brano Argenti vive, contenuto nell'album del 2014 Museica. Mentre in quel caso Filippo Argenti, originariamente collocato da Dante Alighieri nell'Inferno, sosteneva un'energica apologia della violenza, qui si dedica tranquillamente all'uncinetto. Musicalmente, sarebbe come passare dal complesso inglese dei Carcass a Maria Callas. I primi, infatti, essendo una band annoverabile tra i pionieri del death metal melodico, sono conosciuti per delle sonorità particolarmente dure e martellanti. La base della stessa Argenti vive traeva ispirazione dal metal, mentre la seconda, in quanto soprano, risulta sicuramente più dolce e semplice da ascoltare. Riferimento ai brani Avrai ragione tu, quarto estratto dell'album Museica, ed è tardi, diciottesima traccia dello stesso album. Riferimento al brano L'uomo che permette, contenuto nell'album del 2017 Prisoner 709. La penna, inoltre, potrebbe fare riferimento al testo che avrei voluto scrivere. Qui Caparezza trova conforto nella scrittura, un po' come affermava nella precedente Kina Town contenuta in Museica. Il termine confrontarmi potrebbe anche fare riferimento al brano Confusianesimo, avendo quest'ultimo come sottotitolo Il Conforto. Caparezza fa riferimento alla canzone Larsen, appartenente all'album Prisoner 709, in cui parla del suo acufene, un disturbo uditivo che lo ha colpito a partire dal 2015 e che lo costringe a sentire nell'orecchio sinistro un fischio costante. Tramite l'espressione Il vento fischia, Caparezza, con una nastrofe, cita il famoso canto partigiano dal titolo Fischia il vento. Inoltre, il vento fischia tanto come il succitato acufene e l'effetto Larsen è come una teiera. Si tratta di un riferimento alla metafora della teiera, introdotta dal filosofo scozzese Bertrand Russell, per sostenere che spetti a chi propone nuove idee di mostrarne la validità, piuttosto che agli scettici, soprattutto in ambito religioso. Un tema discusso anche dallo stesso artista pugliese nel brano Confusianesimo. Riferimento al brano La caduta di Atlante, contenuta nell'album Prisoner 709. Mentre in tale canzone portava sulle spalle la propria passione per la musica, qui sente solo il peso delle sue palle piene. Riferimento ai brani Ti fa stare bene e Una chiave, contenuti nell'album Prisoner 709. Il Sacro Gange potrebbe inoltre fare riferimento a Confusianesimo. A riprova di ciò, viene riprodotto un suono che è caratteristico della base di quest'ultimo brano. Il Gange potrebbe anche essere un'immagine per la scrittura, già richiamata poco sopra. La metafora non sarebbe nuova, essendo presente in forma identica nel brano del 2014 Kina Town. In questo caso Caparezza dichiara ulteriormente il suo amore per la scrittura e come questa lo faccia stare bene.